Sandro Giacobbe, icona della musica italiana, ha conquistato il pubblico nel 1974 con il successo di Signora Mia. Oltre alla sua carriera musicale, ha vissuto una vita sentimentale intensa, con due figli dal primo matrimonio e un secondo matrimonio con Marina Peroni, sua compagna di vita e di musica. La coppia ha affrontato insieme la malattia che ha colpito Sandro qualche anno fa. Prima di incontrare Marina, Sandro era già stato sposato e aveva due figli. Il destino ha voluto che incontrasse Marina, più giovane di lui e corista nei suoi tour. Dopo un lungo corteggiamento, i due si sono sposati nel 2022, formando una grande famiglia allargata. Marina, laureata in psicologia, ha collaborato con Sandro alla creazione di due canzoni. Dopo il successo degli anni 70 e 80, Sandro ha continuato a dedicarsi alla musica e all'impegno sociale. Ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo negli anni 90 e ha pubblicato diversi album di successo nel nuovo millennio. Tuttavia ha dovuto affrontare una grave malattia, un cancro alla prostata, che ha superato con coraggio e determinazione. Anche suo figlio Andrea ha combattuto contro un tumore da giovane, ma oggi gode di ottima salute. Sandro ha affrontato la malattia con la stessa forza che ha dimostrato nella sua carriera musicale, ringraziando la vita a tutte le esperienze vissute. La sua storia è un resi trascendente resilienza e amore per la vita, che ha saputo affrontare sulle stile con coraggio. Grazie a tutti.